Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi. La famosa conduttrice diventerà nonna per la prima volta a 45 anni, il divertente annuncio sui social e la sua grande felicità. Diventata mamma per la prima volta a soli 19 anni, tra pochi mesi, diventerà nonna per la prima volta a 45 anni. Ad annunciarlo, condividendo la sua gioia con i fan, è stata la stessa conduttrice che, dopo aver custodito gelosamente la notizia nel suo cuore, ha manifestato la sua felicità dopo l'annuncio della figlia. Giovane e bellissima, la conduttrice non nasconde di essere davvero felice all'idea di stringere il suo nipotino o la sua nipotina tra le braccia per la prima volta pur non avendo affatto l'immagine della nonna classica. Con una serie di storie pubblicate su Instagram, così, la conduttrice si è mostrata al settimo cielo, pronta ad affiancare la figlia in quello che sarà il viaggio più bello della sua vita. Sarò nonna. Solo a scriverlo piango, la grande gioia della conduttrice 45enne. Ma non è che sei incinta? Chiede Goffredo Cerza in un divertente video alla fidanzata Aurora Ramazzotti che, non avendo ottenuto ciò che aveva chiesto, risponde, ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia. Guarda che tetta asterisco enormi che ho. Mai più nella vita, goditele. Con un video, Aurora Ramazzotti ha confermato di essere incinta dando così a mamma Michelle Unziker la possibilità di gioire pubblicamente all'idea di diventare presto nonna. Solo a dirlo piango, ha poi scritto Michelle immaginandosi nonna e condividendo il video con cui la figlia Aurora ha ufficializzato la sua prima gravidanza. Michelle, poi, ha fatto i salti di gioia quando la personal trainer l'ha chiamata nonnina. Al termine dell'allenamento, con un semplice accappatoio bianco, la Unziker ha raccontato le emozioni che sta provando nel vivere la gravidanza di Aurora. Una giornata super emozionante. Io lo sapevo già da tantissimo ma finalmente Aurora ha potuto dirlo e possiamo gioire liberamente. Adesso siamo liberi di essere felici. Lei è la mi bebè, come fa a fare un bebè? La vita è meravigliosa. Punto, ha detto Michelle. Mamma di Aurora, sole e celeste, Michelle Unziker è prontissima a fare la nonna e chissà che, dopo aver cresciuto tre femmine, non diventi nonna di un maschietto. Un momento magico, dunque, per la famiglia Unziker Ramazzotti che si sta preparando ad accogliere il frutto dell'amore di Aurora e del fidanzato Goffredo Cerza che stanno insieme da cinque anni. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.